e le onore Andrea terminano la loro esibizione con uno scatenatissimo jive abbiamo il dj che è andato leggermente in difficoltà e i 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 e i li Lollipop E bravissimi! E l'amore del metri è Civitamelea dell'associazione sportiva Mauri Sporti Chiavari. bravissimi approfitto ancora per ringrazio ancora l'orchestra Caravelle che ci ha dato la possibilità di eseguire queste esibizioni utilizzando la loro parecchiatura e soprattutto